Ciao, oggi ti voglio mostrare come fare il cranz. Ok, andiamo a incassare bene, chiudiamo bene gli angoli e procediamo con la sfogliatura. Se fossimo col mattarello, ovviamente in un banco, potremmo tirare da questa parte i bordi chiusi, non si tirano mai, si tira sempre la parte aperta. Quindi in questo caso così. Se il burro è troppo freddo vi si spacca il burro all'interno, se il burro è troppo caldo si scioglie e quindi fuoriesce. Proseguiamo, una piega da 4, distribuire bene su tutta la superficie, ma non una quantità eccessiva, che altrimenti dopo, quando andiamo a lavorarla, potremmo fare dei pasticci. Quindi, ok, così, andiamo a tagliare i nostri cranz. L'eccesso lo togliamo, lo possiamo utilizzare comunque per fare altri prodotti. I nostri cranz sono tagliati, non facciamo altro che andare a girare. Facciamo uno e due. Schiacciamo e mettiamo in teglia. È molto ben sviluppato, molto bello. Andiamo a lucidarlo con un poco di zucchero, acqua, due parti di zucchero, una parte di acqua, fatto bollire e poi raffreddato. Questo è il nostro cranz, molto molto leggero. Spero che con questa video-lezione hai imparato a fare il cranz a regola d'arte. Ti saluto e ci vediamo nella prossima lezione. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti.